Adesso facciamo una versione di George Michael che è troppo emozionante, cioè persino io mi emoziono E poi facciamo una versione di George Michael che è il suo caso E poi facciamo una versione di George Michael che è rilevito E poi facciamo una versione di George Michael che è il suo caso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.